La bromelina fa dimagrire? La risposta è no. La bromelina è un ottimo integratore che si utilizza sicuramente per l'aspetto digestivo, per l'aspetto anticoagulante, antinfiammatorio e anti-edemigeno. La bromelina aiuta a drenare i liquidi, questo sì, quindi può far perdere peso perché comunque con la bromelina facciamo più pipì. È una sostanza assolutamente naturale, chi deve stare attento a prenderla? Sicuramente chi è allergico all'ananas e la gente scoagurata, quindi in questo caso dobbiamo fare un po' d'attenzione. È un prodotto che può essere utilizzato per l'apparato digerente, va preso durante i pasti. Per invece avere l'effetto antimucolitico, antinfiammatorio e anti-edemigeno, che forse è quello che ci interessa di più, va preso a stomaco vuoto per favorire il completo assorbimento. La quantità dai 600 ai 900 mg al giorno nei casi in cui non abbiamo grosse problematiche, ma nel mio caso, che faccio il fisioterapista, la dose la aumenta un pochettino quando si tratta di ematomi, edemi o problematiche infiammatorie, specialmente delle articolazioni.